Venga vi spiego, so finito, so finito in una carcere, vi spiego come, in pratica io a quei giocattoli avevo fatto una scommessa, chi perdeva andava in carcere e la carcere era questa, l'unica che stava. Io ho perso e quindi sono finito in carcere, quindi stasera porterò un nuovo gioco nella serie, però stasera alle ore 11 ci sarà il video di giocattoli. Alle ore 11, 11.00. Quindi raga, vi ho detto solo che stasera vi spiegherò solo un video. E porterò un video e vi farò vedere lo shop, lo shop nuovo di Fortnite, cioè uscire un nuovo video, che usce un nuovo video, non la sera, è per dello shop, che esce un video la sera e i giocattoli. O se no che esce o mezzanotte, i giocattoli comunque. Ciao raga!